oh non c'è niente è allucinante sempre la solita roba mamma mia davvero senti ma tu a serie tv come stai messo? insomma ho visto qualcosa serie così insomma e quindi hai visto Breaking Bad? oddio Breaking Bad ma che è quello Brian Cranston nel padre di Malcom? no per carità guarda un attore è un cane mi piace per niente cioè Brian Cranston è un cane mi stai dicendo è uno dei più grandi attori viventi ma quando? Brian Cranston? Brian Cranston è uno di Malcom no no padre di Malcom mi stai dicendo che è un cane e tu non hai visto Breaking Bad cioè sei l'unico no e comunque non saprei come vederlo quindi agli streaming non si trovava più allora adesso tu vediti Breaking Bad 5 stagioni apri il panetto poi mi dici se Brian Cranston è un cane o meno e poi ne riparliamo solo dopo che l'hai visto vabbè farò lo sforzo la vedrò stai attento però causa dipendenza però dire addirittura si bene? vabbè grazie ho visto Breaking Bad tante volte forse anche troppe volte ne parlano tutti in maniera geniale ma c'è una cosa che nessuno dice mai su Breaking Bad ossia gli effetti indesiderati signori benvenuti su Breaking Bad effetti collaterali amore dimmi amore dimmi amore dimmi pronto amore si senti una cosa scusami io oggi a pranzo faccio tardi non è che per caso vuoi cucinare tu? cucinare tu bentornata Skyler è tutto sparecchiato ma hai preparato qualcosa? no non ho fatto il pranzo ho fatto il caffè non è solo un semplice caffè no aspetta io ti chiedo di far pranzo e te mi prepari il caffè? è un prodotto chimicamente stabile pure al 99,1% è il caffè più puro che tu abbia mai assaggiato provalo e fa schifo cioè boh forse gli manca un po' di zucchero c'è solo un problema Skyler provo a mettere un altro po' di zucchero boh che strano perché per un po' di zucchero non lo cammette ma non lo amore che succede non è zucchero vado a fare la spesa fai come vuoi amore allora io non so se ti sei reso conto che Breaking Bad ti ha dato un pochino alla testa sai anche quella cosa del caffè che vabbè ci sono passata sopra e tutto quanto però questa cosa è molto pericolosa questa cosa che vuoi fare ok? e se c'è scritto di non farla evidentemente perché è molto pericolosa capito? potrebbe metterti in una situazione di pericolo capito? allora non hai capito una cosa io non sono in pericolo Skyler io sono il pericolo no 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 non no no non no non no perché gli No, 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 no. Amore, oddio, devi scusarmi, guarda, non so cosa mi hai preso, ti giuro, adesso sto bene. Ti giuro, Giovanni mi aveva avvisato che crea dipendenza per gli embed, ma non pensavo fino a questo punto, ti prego perdonami. Hai un secondo telefono, Walter? Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, altrimenti, chi se ne frega, io vi saluto e ci rivediamo al prossimo video. Adesso è sul rec, capito? Falla come prima, uguale. Quando ti pare? Hai pali? Amica? Bravo, il sorrisetto da cicolò, bravo. Grazie, molto gentile.